Alessia Marcuzzi ha lasciato a casa il fidanzato Paolo Calabresi Marconi ed è volata negli States con Tommaso e Mia, con la bionda conduttrice del GF e anche Chiara Giordano, ex moglie di Raul Bova, Roberto Baronio, ex giocatore della Lazio, con la consorte, ex amodafferi e i loro figli. Ora si godono il mare dei Caraibi, dove la pace regna sovrana, anche se a sconvolgerla ci pensano proprio Ale e Chiara, con un po' di sana follia.